Perfetto, adesso abbiamo le quattro finaliste, lo vuoi dire te? Le quattro finaliste, Marika ce le elenca di nuovo? Un applauso e siamo quasi pronti per il gran finale. Mi fanno due signorine, si aggiudica il primo posto con 243 punti, Silvia Ferraci. Mi fanno due signorine, mi fanno due signorine, mi fanno due signorine, No time for loser, cause we are the champions of the world. Mi fanno due signorine, si aggiudica il primo posto con 243 punti, se aggiudica il primo posto con 255 punti, We are the champions, we are the champions We are the champions We are the champions Grazie a tutti. Via del cielo, via del cielo, via del cielo, via del cielo. Chiamiamo Stefano Madonna. Patron di Miss Spettacolo e la autrice di questa serata, Anna Bottoni, prego Anna. Il titolare? Ecco, ce l'ha lei, Marika Ginelli. Il titolare del Salone New Look di Montignano. Ancora grazie, volevo ringraziare ancora Anna. È naturale che spiegherò in due minuti quello che è Miss Spettacolo. Miss Spettacolo è un concorso da semente, per me è se è tale. Ultimamente mi hanno rifattezzato la rinda perché abbiamo avuto la fortuna di avere la nostra, la mia Miss Spettacolo. La mia Miss Spettacolo è una puntata speciale di Patronica. Vinta proprio dalla mia Miss Spettacolo. E facciamo che c'è riappituato ai patroni di 60-70 anni. Mi ha rifattezzato la rinda e questo per me è stato un grande piacere. Voglio orientare un tanto a dire che oltre alla vincitrice che avrà accesso diretto alla finale, ognuna di voi che ha preso una fascia per ogni categoria avrà l'accesso diretto. Oltre questo abbiamo voluto anche offrire altre due fasce extra di tutte le categorie a nostra scelta in base alle nostre preferenze che avranno anche questa opportunità. Voglio ricordarvi che le finali ci saranno la setta 10 settembre. potete vederlo tutti quanti in Mondovisione Satellitare su Pogesky per la finale modettivo e invece per la finale spettacolo saremo su Gotti L'Italia, canale 128, digitale terrestre e quindi saremo in tutte le case degli italiani e tutte voi potete vederci. Quindi sarà per voi una grandissima soddisfazione andare in televisione nazionale che è veramente il massimo della pubblicità. Ci saranno tantissimi ospiti, posso già annunciare che uno degli ospiti è la famosissima c'è Gianconaci che sia giovani che un pochino più anziani, anche persone un pochino più mature sicuramente se la ricordano come un'attrice di professione in vacanze che proprio in questo periodo viene rimanata in onda per molte volte in televisione. Come ho detto ringrazio ancora Anna perché Miss New Look negli anni già sta lavorando bene ma mi posso assicurare che sia Cristian che Anna vogliono non fare il classico concorso locale ma stanno veramente tentando di dare opportunità oltre che di visibilità e di divertimento anche lavorativa per tutti i partecipanti. Quindi significa che la qualità del concorso migliorerà sempre di più e sarà veramente una opportunità non solo per Pottinia ma anche per tutti i paesi che si avvicinano in questa zona. Grazie a tutti, ricordo sempre una cosa importante che per ogni organizzatore, io lo dico ora a me da dieci anni che faccio questo mestiere ad ogni evento il nostro vero cuore, la nostra linfa siete voi quindi chiedo sempre al pubblico di fare un applauso a se stesso perché senza di voi un organizzatore di eventi non farebbe propri eventi ma non si sentirebbe neanche in grado, non darebbe neanche il cuore per fare degli eventi che soprattutto li facciamo per voi. Complimenti a tutte le misse e partiamo per dare le nostre due fasce. Abbiamo voluto dare una fascia extra a Paola Cepone che comunque sia rappresentato anche lei i requisiti anche di fisico e tv di Nari per fare una finale a Mora e TV perché per la Mora e TV bisogna comunque sia essere almeno più alto di un metro e 65 in un pocazzo con me puse guante no era la Muto Vini premio noi Grazie a tutti! Quindi darò a te la parola per il nome della seconda faccia Buonasera a tutti premiamo Janet Alcopelli Buonasera a tutti 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 prima volta che abbiamo qui di fronte. I'm fading, so lost, I'm fading, I'm fading, so lost, I'm fading, these shallow waters never make what I needed, I'm letting go.